Il gruppo T-Trade ha inventato un sistema unico ed innovativo per stampare direttamente sul nastro adesivo che chiude la scatola. TT-PS100. TT-PS100 con i suoi otto brevetti internazionali rivoluziona il concetto di etichettatura industriale passando dalla stampa su etichette autoadesive alla stampa su nastro adesivo utilizzando la tecnologia a trasferimento termico. Tutto ciò migliora l'impatto ambientale riducendo gli scarti produttivi, l'imballaggio utilizzato, i costi di stoccaggio e logistici. TT-PS100 si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di nastro elettricchia. TT-PS100 elimina i costi delle etichette. Durante la chiusura della scatola con nastro adesivo stampa direttamente su di esso senza l'utilizzo di etichette. TT-PS100 elimina il tempo uomo-macchina dedicato all'applicazione dell'etichetta. TT-PS100 riduce il tempo di confezionamento e la necessità di ulteriori stazioni di lavoro. Con la rimozione della stazione di etichettatura la linea di confezionamento viene accorciata con benefici economici legati al risparmio di spazio e attività logistica. TT-PS100 riduce le ore di lavoro dedicate al servizio e alla manutenzione della linea produttiva. TT-PS100 elimina il costo per lo smaltimento della carta siliconata delle etichette migliorando al contempo l'impatto ambientale. La cultura ecologica del gruppo T-Trade coglie perfettamente l'obiettivo ecologico non solo eliminando totalmente l'etichetta ma anche il suo conseguente smaltimento o riciclo. TT-PS100 riduce i costi di confezionamento poiché il nastro adesivo è meno costoso di qualsiasi tipo di etichetta utilizzata e dovrebbe essere comunque usato per sigillare la scatola. TT-PS100 elimina il rischio di errori causati da duplicazioni di scatole. Ogni scatola quindi è unica ed irripetibile. Meno prodotti da immagazzinare con la stampa diretta sul nastro adesivo devono essere tenuti in magazzino meno prodotti e sono necessari meno passaggi. Chiudendo la confezione con il nastro adesivo rendiamo visibili su ogni confezione due etichette da entrambi i lati più la descrizione superiore con un vantaggio enorme sulla gestione della scatola dal punto di vista logistico e di rintracciabilità. Le stampe sono visibili su tre lati del pacco dove è presente una nastatrice mentre chiudiamo la scatola con il nastro adesivo stampiamo direttamente sullo stesso eliminando l'etichetta e quindi azzerrando i costi. Eliminando la postazione accorciamo la linea di confezionamento con vantaggi economici legati allo spazio e alla logistica. Proprio grazie a questo security system il potere contratuale con i trasportatori e conseguentemente con l'agenzia assicurativa diventa decisamente importante. Chiusura del pacco come strumento di garanzia. La quantità e personalizzazione dei dati rende la merce in consegna possibile di immediata verifica anche direttamente dal documento di trasporto. Questa stampa sul nastro adesivo ci permette di personalizzare la nostra scatola con dati che prima era impossibile stampare proprio per la dimensione e l'applicazione degli stessi. Infatti data, lotto di produzione, indirizzo, info generiche, peso, messaggi promozionali eccetera diventano tutta la nostra portata. Stampiamo dati unici e ripetibili e questo oltre a rendere la rintracciabilità di un DDT estremamente semplice. T3 Group, DDPS 100.